C'è un po' di tremarella perché è uscito un trailer, un trailer, abbiamo una nuova veste di Vin Diesel, cioè un nuovo personaggio, un nuovo personaggio di Vin Diesel, abbandonato il cliché, abbandonato il cliché. The Last Witch Hunter, l'ultimo cacciatore di streghe. Dai, dai, Summit! La escerà in estate, vedi? Oh, la neve! Ma c'è anche Frodo, santo Dio! La voce la conosco! La voce la conosco, santo Dio! Alfred! Alfred si è fatto preto! Dov'è Batman? Dov'è? Ha cambiato look completamente! Questo fallo, dov'è? È porno? Toretto, tira fuori la charger! Dov'è? Le spade! Ma che spade, ma tira fuori la charger! Da, sto morto! Ma come mi sei scaduto? Viste le giughe punte? Oddio! Nos, nos! Cazza del nostro, aste streghe! Neve, c'è il cavale idrale, santo Dio, del problema è il condizionatore, dai! In! Ragazzi, sono una macchina, due, le macchine! Cambio di indirizzo! Dai, al massimo sono un po' lento, vai! Alberone! Alberonorrrr! Well, hello, witch hunter! Witch hunter! Cazzo degli stetti, dove vieni niente! Here's what you don't understand! Here's what you don't understand! What you don't understand! Here's what you don't understand! Here's what you don't understand! Here's what you don't understand! You don't understand! Let's record! Grazie a tutti.